Io lo ammetto ragazzi, io sono stato uno dei primi a dire che la Juventus non rischiava niente. Ho detto questo, non perché sono juventino con effetti di salama ai occhi, ma ho detto questo tenendo conto del fatto che qualche anno fa sia Milan che Inter per la stessa identica motivazione sono state indagate e il giudice poi aveva sentenziato che per quanto riguarda la questione plus valenze, nessuno può decidere quanto vale un giocatore se non il mercato stesso. Cioè, cosa vuol dire? Se io ho un giocatore da vendere e tu mi dai 100 milioni per questo calciatore qua, non importa che questo sia scarso, vedi Lukaku, non importa che questo sia scarso, vale 100 milioni perché tu me lo paghi 100 milioni e nessuno può dire il contrario perché non ha un'etichetta col prezzo. Se io ho Ronaldinho e te lo voglio vendere a 5 milioni di euro, posso benissimo venderlo a 5 milioni di euro? Questo è il valore di Ronaldinho visto che io l'ho venduto a quella cifra lì. Inter e Milan, nessuna sanzione, nessuna sanzione. Per andare invece in un caso più specifico dove c'è stato un illecito, e questo è stato veramente un illecito, ma grave anche, parlando del Chievo. Il Chievo, qualche anno fa, prima di fallire, e lo dissi anche in un mio video precedente, andatevelo a guardare, per quanto riguarda la questione plus valenza, aveva commesso un illecito molto grave. Perché? Perché loro sì che mettevano a bilancio la plus valenza di alcuni giocatori, due o tre giocatori, scrivevano a bilancio che questo calciatore era andato dal Chievo ad un'altra squadra, ci siamo, e mettevano un milione, 5 milioni la cifra che poi mettevano loro, con la differenza che questi giocatori da Chievo non si sono mai mossi. Quindi queste erano plus valenze fittizie, finte, il calciatore non si è mai mosso, quindi tu stai dando un prezzo e stai mettendo a bilancio una cifra senza muovere il giocatore. Questa è una truffa. Se tu invece avessi preso un calciatore, spostato in un'altra squadra, è scritto, per me questo vale 100 milioni, me li dai? Se l'altro dice sì, 100 milioni vale. Punto. Detto questo, sapete il Chievo che è fallita per una questione economica, non perché è stata sanzionata? Sapete il Chievo che sanzione ha avuto? Tre punti di penalizzazione. Tre punti. Tre punti, ragazzi. Cioè la Juventus 15 punti. E la cosa più bella è che le altre dieci squadre, comprese il Napoli, sono state tutte assolte, tutte a tarra luce e vino. L'unica squadra che è stata penalizzata è la Juventus. Allora mi volete venire a dire che la legge è uguale per tutti, che le regole sono uguali per tutti. Qua si è fatto un processo mediatico, si è portato avanti da prima dei mondiali questo processo mediatico e naturalmente il giudice che poi va, che tra l'altro mi piacerebbe sapere da dove arriva questo giudice, a voce dice che è napoletano, ma non voglio credere a questo, anzi dei napoletani adesso vi dico una bella cosa. visto che la Juventus è sempre sotto procura, anzi sotto la lente della procura, io mi chiedo, così tanto per, visto che la Juventus è stata penalizzata e fino a quando adesso ci sarà il ricorso, poi vedremo come andrà a finire, perché tra l'altro questo ricorso o azzerano completamente la penalizzazione, o rimane, cioè non possono diminuire da 15, come vi ho detto io ieri in un mio video, partiamo da 15 punti di penalizzazione e arriviamo a 6, 9, 3, no, questo non lo si può fare. Nel caso la Juventus dovesse vincere il ricorso e si azzera la squalifica, ma nel caso la Juventus dovesse perdere la squalifica rimane 15, quindi non ci sarà una contrattazione, assolutamente. E già questa è una cosa molto grave, molto grave perché dipende dal prossimo giudice che verrà a giudicare le prove che sono state portate, che sono state portate naturalmente dalla procura di Torino contro la Juventus, lasciando perdere tutte le altre squadre. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che se quello che ha fatto la Juventus è una cosa grave e che fa solo la Juve, e allora ok, ma se le prove che sono state portate riguardano soltanto la Juventus e non hanno preso in considerazione le altre squadre, che hanno fatto lo stesso identico lavoro, e allora cosa qua non è più una giuria... Scusatemi ragazzi, una cosa giusta, assolutamente no, perché è stato preso sotto l'ente di ingrandimento soltanto quello che fa una squadra, a parte che siamo già abituati a vederlo, siamo già abituati a vederlo dal 2006, dal Farsopoli che hanno creato, in 15 giorni hanno fatto un processo, hanno mandato in Serie B una squadra, tutte le altre tra luce e vino. Mi ricordo addirittura quell'anno lì, nel 2007 è andato a guardare, se non sbaglio, Emilia vince pure la Champions League, che era stata penalizzata, poi gli avevano restituito dei punti per poter poi andarsi a giocare la Champions League, perché altrimenti con i punti di penalizzazione dati al Milan non si sarebbe qualificata quarta, quindi il Milan fece un ricorso, vinse il ricorso, gli dietro e indietro quei nove punti, adesso non mi ricordo quanti punti erano, ma potete andarlo a vedere tranquillamente, è tutto documentato. E grazie a quei punti la Juve e il Milan ritorno tra le prime quattro, l'anno successivo giocò la Champions League e la vinse pure, pure, facendo le stesse identiche cose che faceva la Juve, che faceva l'Inter, prescritta, prescritta. A proposito di prescrizione, questo caso, il caso Prisma, è stato riaperto dopo un mese e 20 giorni dalla chiusura del processo. È normale, hai 30 giorni di tempo per poterti opporre. Infatti la Juventus adesso avrà 30 giorni di tempo per potersi opporre. Superati i 30 giorni non ti puoi più opporre. Com'è che hanno riaperto questo caso dopo 50 giorni? Cioè la legge come funziona? Spiegatemelo voi come funziona. Comunque detto questo, piccola parentesi, chiudiamola. Parliamo del Napoli. Grande squadra. Loro sì che sono onesti. I napoletani, i napolissi, lasciamo perdere i napoletani, che loro già sono disonesti di natura. I napolissi, tifosi del Napoli. Voi sì che siete onesti. Pensate che voi siete riconosciuti nel mondo. Perché da voi ha giocato un certo Maradona? Conosciamo tutti Maradona, no? Niente da dire come calciatore, niente da dire come uomo. Si è fatto conoscere da solo. Quindi c'è chi lo apprezza e chi no. tanto per dire, giusto per dire, Maradona si faceva di coca, giusto? E la cocaina, sapete tutti, e chi non lo sa, io lo dico adesso io, è un enorme, è una grandissima sostanza dopante. Cioè tu ti fai di coca e vai come un cavallo, hai capito? Maradona tirava più o meno sui 7-8 grammi a partita. A partita, a partita, non lo dico io, non lo dico io. Avete vinto un campionato con Maradona, drogato come un cavallo, dopato come un cavallo e ci venite a fare la morale a noi. Voi ci venite a fare la morale a noi. Ma come cazzo vi permettete? Ma andatevene a fanculo. Voi che senza marra droga non vi conoscerebbe nessuno da nessuna parte, in vita vostra, non avete fatto neanche mai un quarto di finale. Fuori da Napoli non vi conosce un cazzo di nessuno. Non veniteci a fare la morale a noi. Per quanto riguarda sempre il Napoli, per quanto riguarda sempre il Napoli, che un piccolo sassolino ce lo togliamo, la questione Osimè, il cambio con Lille, 80 milioni di euro, 12 mesi di inibizione chiesti per l'ADL del Napoli. Nessuno ne parla. Hanno spostato 4 giocatori al prezzo di 20 milioni di euro cada uno a Lille per prendersi Osimèni. Peccato che questi 4 giocatori valutati e messi a bilancio 20 milioni di euro cada uno non si siano mai spostati da Napoli. E allora è possibile che le procure di Napoli, la procura di Torino apri inchieste e controlla tutto e fanno bene e fanno bene alla procura di Napoli. Oh, voglio che ce ne fottano. Voglio ti sembra normale? vi sembra normale? Rispondetemi, caro napoletano, caro escremento, rispondimi, rispondimi. Ti sembra normale questo? Tu che vieni a fare la morale a noi. Parliamo poi degli interisti prescritti. Avete l'Inter, l'Inter, ha 900 milioni di euro di debiti senza nessun piano di rifinanziazione, di rifinanziamento. Nessuno. Il bond da 400 milioni di euro che è stato richiesto dall'Inter è fallito. È fallito, non ne parla un cazzo di nessuno, ma è fallito. Andate a vedere. L'Inter ha 900 milioni di euro di debiti, ma questi debiti ce li ha già da anni. L'Inter è praticamente una squadra fallita, fallita e non ne parla nessuno. Hanno preso Hakimi senza mai pagare una rata. Ha giocato per un anno, ha vinto un campionato, tra l'altro anche dando il suo ottimo contributo perché è un grande giocatore Hakimi. Ha giocato nell'Inter e nessuno ha detto niente. Un anno. Un anno. Senza pagare mai una rata. Lukaku Lukaku venduto 80 milioni di euro ripreso l'anno dopo in prestito ma state scherzate ma ci pigliate per il culo. Ma ci pigliate per il culo. Tutte le prove per quanto riguarda l'Inter riguardo al processo Calciopoli buttate nell'immondizia perché ormai erano passati i tempi di prescrizione. Peccato che la Juventus e la documentazione gliela portava prima che non c'era un giudice che poteva prendere in mano questa documentazione perché nessuno era adibito a fare quel tipo di lavoro là. Perché adesso invece in questo caso sì, basta che uno arriva un chine qualsiasi e dice io ho delle nuove prove 5.000 pagine 20.000 pagine scritte da me qui ci sono le prove richiedo 9 punti assurdo si sa che un PM chiede sempre il massimo che può perché poi il giudice abbassa le richieste cioè questo PM chiede 9 punti e il giudice ne dà 15 e per voi è tutto normale per voi è tutto normale ragazzi purtroppo è così la legge è uguale per tutti ma dipende da che parte la guardi detto questo io voglio vedere adesso che sia la procura di Napoli apre un'inchiesta per quanto riguarda il caso Ozyman gli 80 milioni di euro e i 4 calciatori che sono stati valutati 20 milioni di euro cada uno per fare il cambio con Lille per prendersi Ozyman questi 4 giocatori da Napoli non si sono mai mossi e qualcuno mi venga a spiegare anche come fa l'Inter ad essere ancora iscritta al campionato italiano di Serie A visto che la Juventus è stata penalizzata perché con quei 60 milioni di euro di plus valenze che hanno fatto hanno contribuito all'iscrizione per l'iscrizione del campionato di Serie A e allora l'Inter dove cazzo li ha presi questi soldi che ha 900 milioni di euro di debiti ancora ora e non ha un piano di investimenti non ha niente non ha niente dove li prende l'Inter perché non aprono una cazzo di inchiesta anche alle altre procure perché perché si sa che la Juventus è la squadra che sta sul culo a tutti e ve l'ho spiegato il motivo i 10 anni di vittoria della Juventus hanno fatto molto male ti hanno fatto male ma hanno fatto male a te perché guarda che quest'anno noi possiamo non vincere niente ma l'anno prossimo torniamo o tra due anni noi torneremo e voi dovete inventarvi sempre una scusa un motivo perché dopo un tot di anni di vedere vincere la Juve vi scoppierà il fegato perché ascoltami ti scoppierà di nuovo il fegato ti scoppierà di nuovo il fegato dovete inventarvi un'altra cosa il VAR il fuorigioco con 3D la puttana di tua sorella lo prenderete di nuovo in quel posto torneremo più forti di prima più forti di prima ciao aglio